Il diario di Adamo ed Eva con Corinne Clery e Francesco Branchetti, che ne cura anche la regia, aprirà la stagione teatrale 2022-2023, domenica pomeriggio a teatro. Lo stesso Branchetti tornerà poi per lo spettacolo finale, Cose di ogni giorno, questa volta insieme a Danny Mendez, sempre nel dubbio ruolo di attore e regista. Tra i 12 spettacoli in programma fino a maggio ci saranno anche il siciliano Antonello Costa, ritornerà in città Danila Stalteri, che si esibirà con Gianni Ferreri, e tanti altri artisti provenienti da tutta Italia. La stagione inizierà il 27 di novembre e terminerà il 7 di maggio. Saranno 12 appuntamenti, 12 appuntamenti domenicali. La stagione viene chiamata domenica pomeriggio a teatro e siamo alla 24esima edizione. Sì, verrà fatta qui nel Teatro Oasi della Cultura. Diciamo che finalmente apriamo il sipario e apriamo la stagione senza veti. Infatti gli spettacoli saranno tutti in presenza, non ci saranno distanziamenti, non c'è l'obbligo della mascherina, e chiaramente chi vorrà portarla e metterla la metterà. Quindi dopo un'estate dove le piazze si sono riempite, speriamo di riuscire a riempire pure teatri in infernale. Gli spettacoli del Teatro Sabia e Nisseno regaleranno tante novità, ma anche uno spettacolo che è stato riproposto quest'estate al pubblico. Ora però muori, amore mio, con la regia di Antonello Capodici.